Ecco qua, piani della civita di Artena, sto documentando per la prima volta i luteri di epoca romana, un luogo che è ancora oggi diciamo oggetto di schiavi archeologici, di studi. Vedete? Questo è qualcosa realizzato in epoca romana ma che comunque credo che sia stato eretto su praticamente un'area già preesistente. Il pietirisco diciamo recuperato dagli archeologi. Bellezze italiche che andrebbero sicuramente pubblicizzate, andrebbero sistemate. Ed invece sono così, facciamo un po' abbandonate. Ci sono segni di riutilizzo probabilmente di epoca più recente, anche in epoca ottocentesca sicuramente, medievale, vabbè. Ecco qua.